Ragazzi, bentornati finalmente in questo video extra, uno degli ultimi, chi lo sa, riguardanti leggende Pokémon Arceus Mi raccomando subito un bel like qui sotto, un bel feedback, o anche un commentino e una bella descrizione al canale Quest'oggi, come già abbiamo visto diversi video fa, ci aveva detto Noesis, vi ricordate? Subito dopo la battaglia con Edlo che praticamente ci aveva accennato di Landrus, Tornadus e Tundrus Che hanno sparsi nella landa ossidiana, Costa Utre Mare e se non ricordo male Ghiacci Candidi Quando ci sono più che altro delle tempeste, quindi questo oggi proveremo, proveremo perché secondo me sarà un parto incredibile A dare la caccia a quei tre Pokémon e magari ci spunterà pure fuori il quarto e nuovo Pokémon di quel trio Che ormai non è più un trio ma avete capito, quindi siamo prontissimi, io direi di andare per prima cosa Potremmo andare qui nella landa ossidiana, provo ad andare a vedere da queste parti, vicino allo Snorlax Dovrebbe esserci qualcosa, adesso vediamo Ok, quello lì è un Luxry Vediamo un po' ragazzi, anch'io lo sto facendo per la prima volta, quindi non posso essere totalmente informato Però, però dovrebbe essere comunque sia da queste parti Adesso, oddio, cosa c'è là sotto? Cos'è? Era un Abra quello, mi sa Era un Abra? Sì, era perfettamente un Abra Ok, diamo un'occhiata Diamo un'occhiata perché potrebbe essere dappertutto Da tutte le parti, signori Quindi non si può tralasciare niente Oh Abbiamo Infernape Ed ecco laggiù, lo vedete? Lo vedete? Eccolo Avviciniamoci Avviciniamoci con cautela Eh, vuole fare il furbo Per cominciare comunque sia, vi consiglio Vi consiglio di procurarvi delle scoppiosfere Che serviranno appunto per rompere quella barriera invalicabile Quel tornado che protegge il Pokémon leggendario E anche delle palle di fango Praticamente, oltre alle varie ball E molto importante, visto che l'androssa in questa zona Magari di far fuori prima l'Infernaipal Che si trova qui, io l'ho già fatto Quindi potete tranquillamente farlo Probabilmente non sarà facilissimo Anche perché è proprio Sfugge, sfugge questo Pokémon Vi farà anche del male Quindi selezionate le scoppiosfere E proveremo in qualche modo A Qualche modo A fargli del male Al piccolo Landorus Vediamo Ok, vedete? Vedete? Pokémon? Pokémon? Ok, vedete che gli avevo rotto la barriera praticamente Questo è il metodo, giusto? Bisogna avvicinarsi lentamente Però è un parolone Avvicinarsi lentamente a questo coso È un bel parolone Eccolo là Ok Vai Vediamo No Non va ancora Non va ancora Devo tirarle forse un po' di più Ehi là, amico mio Cosa fai? Scusa, non ho Ben capito Dove è andato a finire il piccolo Piccolo Landorus Ok Mi sa che me ne serviranno anche di più Comunque se le scoppiosfere Oppure devo semplicemente capire come colpirlo Perché ragazzi vi ricordo che non l'ho Non l'ho mai fatto È la prima volta questa Quindi dovrei Arrivare davanti a lui Questo qua mi rompe le scatole Mi deve rompere proprio le scatole Incredibile Incredibile Comunque non penso che sia Utile arrivarci Con il Pokémon Tipo weird Dile o cose del genere Ok Vediamo Ok E adesso È andato Eccolo qua L'ho stordito più volte E abbiamo interagito con Landorus Ok Niente ragazzi Hanno fatto Ok E ritiro quello che ho detto Catturato Vabbè Non è stato così difficile alla fine Gli ho tirato forse un po' più Ultramo rispetto agli altri Però almeno adesso Possiamo abbandonare Questo nuovo Questo è l'altro io Il più facile Perché non necessitava Di condizioni atmosferiche Gli altri due purtroppo Necessitano di condizioni atmosferiche Uno una pioggia E uno una bufera di neve Quello il problema Più che altro Ok Sembra che si stia scatenando Una tempesta finalmente Vedete che È più forte Sì E questa dovrebbe essere La tempesta Vedete che c'è anche vento Dovremmo riuscire a cercare E a trovare il nostro Eccolo laggiù Eccolo laggiù Lo vedete Va un pochino A scatti Molto simpatico Caro Tornadus Buonasera carissimo Buonasera carissimo Guarda come Come vuole fuggire Come vuole fuggire La mia tattica ragazzi Per questo pokemon È volare Sopra di lui Visto che Vedete che non si accorge Cioè della nostra presenza In teoria Poi campargli in testa Non c'è stato verso Quindi ho provato così Effettivamente ha funzionato Cioè dopo due tentativi Volando Ce l'ho fatta Con Cioè via terra È molto 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 difficile Cioè è proprio difficile Interagire con questo coso Molto molto difficile Cioè preso Guarda c'è poi preso La prima ball Ma io devo veramente Devo veramente fare qualcosa Perché Dai l'ho preso La prima ball L'ho preso È più difficile Incontrarlo Che catturarlo Praticamente Va bene Due su quattro Diciamo Per il momento Ok ragazzi Finalmente c'è la pioggia Per far ciò Basterà Esettare Praticamente Andando a dormire Fino alla notte fonda Poi Salvate Ma non dovete più Esettare il tempo E finalmente La tempesta È arrivata Molto bene L'ho aspettata per Per minuti E minuti E minuti Questa è la condizione giusta Si è scatenata Una bufera Veramente Una tempesta Insomma è molto facile Controllare Il tempo Sembra una fase Di 3 di alga Ma va bene Dove taglio stavolta Basta Dormire fino alla notte fonda È il campo base Ci vorrà Un po' di Insomma un po' di pazienza Perché dovete esettare Comunque sia un po' di volte Però alla fine Doveva andare tutto Secondo i piani Adesso Andando Laggiù Che è una zona Alquanto impervia Proprio classica Per un leggendario Questa volta Non so se Sarà Da lanciare gli altri strumenti Oppure solamente i pokemon Però Già il fatto che sia Già il fatto che sia In acqua Non mi piace proprio per niente Perché è ancora più scomodo In acqua Vediamo un po' se Questa è la tempesta Cioè effettivamente È la tempesta questa C'è Il pokemon Qui C'è qualcuno qui Non vedo nessuno Eppure la tempesta È qui Ma Qui da qualche parte Eccolo Eccolo Facciamo una bella cosa Facciamo una bella cosa Salviamo di nuovo Noi siamo più vicini Fate pure così voi Eccolo Signori Eccolo 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 Eh ma questo qua è tosto Cioè Questo qua è proprio tosto Io non riesco Cioè devo un attimo Prenderci la mano Perché questo qua è veramente Allucinante Ce l'ho fatta signori Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Gli ho tirato una Una sfera Queste qua Le Oddio Che fatica Una scoppia sfera E poi gli ho tirato Il pokemon Subito Ok Non devo fallire Perché veramente Veramente Io non ne posso più C'è pure Oh no c'è pure Geydos Oh no c'è pure Geydos C'è pure un Geydos Cosa ci fa questo qua Cosa ci fa Tecnica rapida Va bene Va bene Non importa Ma non importa Se devo buttare giù pure quel Geydos Che roba E ne manca poi ancora uno Ne manca poi ancora uno C'è molto molto divertente Veramente pazzesco Vediamo No questo qua non è così facile Come No Vabbè Vabbè Ok Fa niente Prima ball Una cosa Una cosa allucinante Allucinante Sapete che Sapete che io cosa faccio Salvo No no Infattibile Molto bene ragazzi Quindi una volta Catturati i tre Pokemon meteo Originali E Avendo come livello Di ricerca Dieci per tutti e tre Non è affatto facile Bisogna fargli fare il più possibile In battaglia Perché dovete Appunto registrare le cose Quindi io Livello 10 Tornate da Noesis Ovviamente a fare rapporto Alla dimora Remota Lai vi aspetterà Qui appunto Eccola Eccoti qui finalmente Proprio io Proprio lui Ti faccio i miei complimenti Per aver catturato Landrus Tornadus E Tornadus Notevole In circostanze normali Sarebbe preferibile Lasciarli scolazzare liberamente Ma dopo quello Squatch Non si può stare sereni Finché i suoi effetti Non saranno del tutto svaniti Sarebbe meglio Che stessero tranquilli Giusto Ma c'è un'ultima cosa Di cui vorrei parlare Devi sapere che In verità In verità Che cosa succede C'è un quarto Pokémon Vieni a me Ma come vieni a me Oh no ragazzi Eccola Amur Enamurus Dovrebbe chiamarsi così Il suo nome è Enamurus Enamurus Ok Alcuni lo venerano Come divinità della primavera Che brutto In questo caso Non si tratta di un Pokémon Di indole violenta Ma la tua missione È completare il Pokédex Quindi dovresti Catturare anche lui Giusto Vai allora Lo potrei avvistare Nei cieli Che sovrassano L'acquitrino vermiglio Oddio Magari da queste parti No ok E qui è solamente La roccia Ah eccola Eccola Simpatica Molto simpatica La vedete Però Se io Passo qua su No Ah ma mi vede Mi vede Ma se io Se io gli campo in testa Ok Finalmente Io volevo Campargli in testa Più che altro Ma Oddio Pure Pure qua su Mi riconosce No aspetta Aspetta Facciamo una cosa Salviamo Non posso salvare No non posso salvare In questo momento Ok Calma Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Ce l'ho fatta signori Ce l'ho fatta Finalmente 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 Gli ho campato addosso Tornadus Che brutto Madonna Occhio Adesso Per favore Occhio No no Ma che potente Facciamo un extra senso Cerchiamo di farlo Attaccare il più possibile Madonna che poche Molto terrificante Ragazzi Tempesta Zephirea Ok Gli ho fatto anche Abbastanza danno Con extra senso La faccia che era Quello più L'animo più Più gentile Ok Ora Non si fa più niente Spero che non abbia Mosse che Con cui si può fare Contraccolpo Bene I joycon Sempre il momento Peggiore Decidono di andare Per il capo di loro Ok Vediamo un po' Catturiamolo Per favore Pogliamo fine a tutto No Non l'abbiamo preso No no E vedi E' pure il più difficile Sembra una signora Anziana Praticamente Ok Adesso è arrabbiatissimo È arrabbiatissimo Sembra una vecchietta Guarda Praticamente Molto strano Questo Questo pokemon Molto strano E anche Vabbè Giustamente si è boostato E' impazzito Comunque Ragazzi La cattura di questi Pokemon Meteo È allucinante Cioè Veramente Veramente allucinante Allucinante Cioè Non Non vorrei rifarlo Mai più Sinceramente Proprio mai più Basta Mai più Esatto Come una Famosa frase Detta in tv E meme dappertutto Dai Vediamo un po' Ho tutto giallo qua Preso? No Sembra di Sembra di no Ovviamente deve essere anche il più difficile Gli altri praticamente con una ball Una ball Tra l'altro non so neanche di che tipo sia questa mossa Sarò sincero perché non conosco ancora benissimo il pokemon Però Se come i suoi fratelli I suoi cugini Chiamateli un po' come volete Dovrebbe starci un po' di ultra ball in teoria Tipo questa Tipo questa L'ho chiamato Perfetto Enamorus Molto bene Tutorial Completato Vedete che possiamo tornare Indietro C'è ancora una piccola cosa che Vi devo dire Che però In questo momento Non penso di essere ancora in grado di fare Adesso vediamo un po' il livello di questo Enamorus La pagina poco che si intende Come livello Questa qua è un pochino più difficile Infatti non è che Non penso di esserci arrivato All All'obiettivo Vediamo un po' È al livello 5 Niente Niente Ragazzi Mi servirebbe Mi sarebbero serviti più attacchi Comunque sia La cosa che vi volevo dire È che se raggiungete Anche il livello 10 Sono al 5 Dannazione Per questo pokemon Potrete ricevere da Noasis Lo strumento Per cambiare forma Ai pokemon A questi pokemon qua chiaramente Quindi Fatelo in caso Però è difficile Perché dovete raggiungere anche la forma Cioè la pagina Di livello 10 Sul Su Enamorus Eccomi Sono tornato Questa volta Ho quello che cerchi Ah ok No non ci dice più nient'altro In poche parole Ma io ce l'ho Ce l'ho qui Il pokemon No niente Non ci dice più Più niente Ok Va bene Comunque noi il pokemon Ce l'abbiamo L'importante è quello Quindi Semplicemente dovremmo averlo Di livello Di livello 10 Nel senso la sua pagina Apokédex Quindi Io lo farei uscire Dalla bolla A meno A meno Concludiamo il video Insieme Eccolo qua Molto Molto carino Debo dire Bellissimo Quindi ragazzi Da Rocket E da Enamorus E tutti gli altri Per oggi è tutto Invito a lasciare un mi piace Per la fatica Incredibile Un commentino qui sotto E una bella iscrizione Al canale Il pokemon è un po' arrabbiato Ma non importa Quindi Un saluto Buon pomeriggio Buona giornata E ovviamente Come sempre Bye bye Recute Grazie a tutti Grazie a tutti